De Grandis mi stuzzicava. Con poche parole il 71enne Amleto Petrosemolo ha rivelato il movente dell'omicidio di Francesco De Florio De Grandis, 72 anni, ucciso ieri mattina in via Cipollone nel quartiere Santa Rita di Lanciano. Era uscito per andare a messa, ma nella cattedrale della Madonna del Ponte Francesco De Grandis non è mai arrivato, freddato alle spalle con 13 colpi di pistola, 5 fatali, dopo aver percorso appena qualche metro dalla sua abitazione. A dare l'allarme sono stati vicini di casa, svegliati dagli spari in quella che doveva essere una domenica mattina come tante, nel quartiere della periferia lancianese dove vivevano sia Amleto che Francesco, vicini di casa, omicida e vittima di un inaspettato episodio di cronaca nera. Tanto più assurdo perché Cicillo, come era conosciuto a Lanciano Francesco De Florio De Grandis, era ben voluto da tutti e non aveva nemici. Appassionato di musica, aveva inciso anche alcuni cd con la sua chitarra. Il 72enne era un imbianchino in pensione che usava i pennelli anche per dipingere quadri, tanto che nella sua Lanciano era conosciuto anche come il pittore della notte, perché proprio nel silenzio e nella calma della notte traeva ispirazione per le opere che oggi adornano case e negozi di molti lancianesi. Realizzava anche i cosiddetti carnevali di legno e cartapesta da incendiare in piazza secondo la tradizione. Proprio una delle sue opere sarebbe stata utilizzata per la festa di quest'anno, ha dichiarato Filippo Paolini, sindaco di Lanciano, che parla di un'intera città scossa da questo fatto di sangue avvenuto senza una ragione. Carabinieri, polizia, vigili urbani e sanitari del 118 sono giunti sul posto subito dopo essere stati allertati dagli inquilini dell'abitazione di via Cipollone, che alle forze dell'ordine hanno raccontato di aver visto un uomo armato di pistola seguire la vittima e poi sparargli una serie di colpi, fino a quando non si è accasciata a terra. L'omicida, il 71enne Amleto Petrosemolo, istruttore di tiro a segno e commerciante in pensione, che in piazza Plebiscito aveva un negozio di elettrodomestici e riparazione di televisori, abitava nello stesso palazzo della sua vittima, al civico 16 di via Cipollone. Ieri ha seguito Cicillo per strada e gli ha scaricato nella schiena una decina di colpi con la sua pistola, detenuta con un regolare porto d'armi e trovata poco dopo dagli investigatori. Alcuni testimoni hanno raccontato di aver visto l'uomo freddare il pensionato di spalle e poi allontanarsi con calma dal luogo del delitto. Si saprà dopo che Petrosemolo era andato a casa di un'amica alla quale aveva confessato l'accaduto. È stata la donna ad allertare i carabinieri, che hanno fermato l'uomo uscito dal palazzo, probabilmente convinto a confessare il delitto. Petrosemolo ha motivato il suo gesto dichiarando che la vittima lo stuzzicava spesso quando lo incontrava. E di manie di persecuzione e comportamenti strani parlano anche i vicini dell'arrestato, anche se al momento nessun certificato medico ha confermato le dichiarazioni di chi è stato ascoltato nell'immediatezza dell'episodio. Mio padre era un uomo tranquillo, pensionato, ex in bianchino, con lobby della pittura e della cartapesta. Non aveva conti in sospeso con nessuno, raccontano i figli e la moglie della vittima, senza alcun precedente penale, nessun problema con la giustizia, incensurato come anche Petrosemolo. Le indagini sono state affidati ai carabinieri di Lanciano, coordinati dal tenente colonnello Vincenzo Orlando e dal tenente Giuseppe Nestola, a capo del NORM. Il caso è seguito dal PM Serena Rossi, che ha disposto l'autopsia di De Grandis, che sarà effettuata all'ospedale Santissima Annunziata di Chieti la prossima settimana dal medico legale Cristian Dovidio, che ha già eseguito una prima ricognizione cadaverica esterna. Intanto Petrosemolo, arrestato e trasferito nel carcere di Villa Stanazzo a Lanciano, dovrà rispondere di omicidio volontario, aggravato da futili motivi.